La mia prevede profeta, Gerecchia, mi fu rivolta a questa parola del Signore, va e dica il prevedere di Gesù da lei. Così dice il Signore, mi ricordo di me, della prevedere della tua giudizia, dell'amore al tempo e di un'unica nel saluto, quando sento il risetto, in terra non segnata. Israele è esatto al Signore, la felicità è su raccogliere. Quanti osano mangiare, se le vedevano con te, la seguità si appartiene su di loro, un raccogliere del Signore. Io ho rivolto tutti in una testa a te e a te, perché mancassi tutti i prodotti, ma vorrei, a perdonare, avere rinamato la mia testa e avere persi un'agricoglio, la mia vita. Neppure i scrittori, signor Matano, dov'è il Signore? Gli esperti nella vita non ne hanno mai passato. I pastori si sono diventati con me. I profetti hanno portato un uomo di un valore e hanno segnato i diritti che lo diventano. Occe, siate in esdefatti, non diritti e salentati, orate con il Signore. Due, se non è tutto, è il compenso di un uomo. Abbandonate, sorprende la vita riva. E se stavate un sistema, sistema di pieni di rete, che non proteggono parola di Signore. E se stavate un uomo, è il Signore la sorgente della vita. Signore, il suo amore è la sua società, con gli uomini, la sua giustizia. È come nel tuo altro volontario, il suo giudizio è come la passione del tuo mondo. E il Signore è il suo amore della vita. Quando il mio amore è il suo amore, il tuo Dio, si sfuggono i uomini, ammettate le due anni. Si stavano nella donnazza della tua casa. Qui di sé, al corrente e alle due di sé, è il suo amore della sorgente della vita. È il suo amore della sorgente della vita. Alla tua luce degli anni, riversa il tuo nome, è il suo amore della sorgente della vita. La tua giustizia, il tuo Dio, si sfuggono i uomini, ammettate le due anni. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie a tutti.